Quello per il nostro grossi è un amore unico, ma come dobbiamo utilizzarlo? Questa papola è consigliata ogni due settimane. Per un capello medio lungo come il mio è consigliato utilizzare un'ampolla intera, quindi monodose. Ci aiutiamo con un dosatore e aggiungiamo 10 ml d'acqua. Capello umido, quindi post shampoo, iniziamo a distribuirlo dalle punte più danneggiate fino al cuoio capelluto. Subito dopo lo pettiniamo e lo asciughiamo con l'aiuto di un phon o di un diffusore fino a completo inturimento. A quel punto acqua, sempre con l'aiuto del pettine, si riemulsiona e si sciacquano via bene tutti i residui rimasti per almeno un due o tre minuti. Infine passiamo alla piega e quindi alla nostra asciugatura.